Chao Fei è un artista cinese internazionalmente importante per la prima volta in Italia. È un artista molto sensibile a non solo la nuova tecnologia, anche la sensibilità, l'immaginazione della nuova generazione cinese, è un tempo di globalizzazione. Questo progetto è anche una collaborazione con il Museo Pecci a Prato. Lascio Monia Trompetta, la co-curatrice del progetto, di spiegare in dettaglio. Il lavoro di Chao Fei è prima di tutto una riflessione sulla velocità di cambiamento, sul rapporto tra reale e virtuale. Le sue opere attraversano un percorso che attraversa i millenni e con la tecnologia arriva e mette in connessione il presente, il passato e il futuro. La mostra si concentra su un aspetto del suo lavoro che per il Maxi è molto importante e da sempre coltivato in una linea espositiva particolare, l'interazione tra reale e virtuale. In mostra ci sono due dei suoi film realizzati rispettivamente nel 2013 e nel 2014, apprezzati dal pubblico internazionale, Ays & Fag e L.A.Town, che dialogano con gli ultimi lavori dell'artista. Il film Nova, che dà appunto il titolo alla mostra Supernova. Le opere vengono presentate al Maxi in un unico percorso installativo molto complesso che parte dalla vita privata dell'artista, anche in questo caso da una realtà tangibile come può essere la sua casa, il suo studio, la sua stessa cucina, per analizzare il mondo globale e virtuale anche in un futuro più remoto. Ays & Fag e L.A.Town Ays & Fag e L.A.Town Ays & Fag e L.A.Town